Parliamo di sanità. In città purtroppo i disagi ci sono stati ma continuano anche ad esserci. Recentemente anche il trasferimento pare di un medico del pronto soccorso di Vittoria a Ragusa. Questo significa ancora meno organico ma anche maggiori disagi per la cittadinanza? Assolutamente. L'ospedale di Vittoria e il pronto soccorso in particolar modo vivono una situazione di assoluta difficoltà, di assoluto disagio. La presenza o l'assenza degli operatori sanitari rispetto a quelli che dovrebbero esserci e previsti dall'organico è assolutamente carente. Ciò si ripercuote nei servizi offerti alla cittadinanza di Vittoria. Vittoria sta subendo quindi le difficoltà dovute anche ad una cattiva gestione da parte dell'azienda e da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale che nonostante le continue sollecitazioni, nonostante le richieste da parte delle istituzioni della città di Vittoria ha fatto sostanzialmente orecchi da mercante. Abbiamo chiesto che si disponesse l'assunzione di nuovi medici per il pronto soccorso. Vittoria ogni anno registra 46.000 accessi e nonostante ciò assai più di altre realtà della provincia di Ragusa e nonostante ciò tuttavia viene trattata come la cenerentola della provincia. Ciò non lo possiamo consentire, quindi abbiamo più volte chiesto di provvedere ad una riorganizzazione del reparto di emergenza urgenza dell'ospedale di Vittoria abbiamo chiesto che si disponesse un trasferimento, magari un riequilibrio tra i medici presenti in tutto il territorio provinciale, ma ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta. Per ultimo, l'ultima scelta del direttore Aricò è stata quella di procedere al trasferimento di un'ulteriore unità dall'ospedale di Vittoria all'ospedale di Ragusa, al pronto soccorso di Ragusa. Ciò evidentemente riduce ulteriormente i medici a disposizione, poiché oggi sono presenti tre medici su otto previsti all'organico e dal primo settembre potrebbero essere presenti quindi due medici su otto. Ciò senza prevedere alcuna procedura di compensazione. In questi giorni abbiamo letto dalle dichiarazioni sulla stampa le scelte o le comunicazioni che sono venute da parte del governo regionale. Pare che ci sia l'intenzione di procedere a nuove assunzioni. Questo è un dato ancora assolutamente vago. Non sappiamo quando si procederà. In tutti i casi ciò non consentirà di risolvere l'emergenza o di oggi, l'emergenza immediata. Abbiamo altresì chiesto un intervento al nuovo direttore generale considerata l'assoluta indisponibilità dell'attuale direttore generale. Non appena si insedierà il nuovo direttore generale, il dottore Ficarra, chiederemo un incontro e dovrà essere nei prossimi giorni un incontro per sottoporre alla sua attenzione i disagi che vive il pronto soccorso ma non solo il pronto soccorso perché purtroppo Vittoria altri reparti stanno continuando, stanno iniziando a vivere e continuando in alcuni casi disagi assolutamente inaspettati ma assolutamente indicibili per un ospedale, per il servizio che deve essere garantito. Mi riferisco al reparto di ortopedia, mi riferisco al reparto di medicina che nonostante le sollecitazioni continuano ad essere assolutamente carenti di personale medico e di operatori che appunto collaborano con il personale medico.